sabrina salerno è stata operata a causa di un nodulo maligno al seno sabrina salerno subisce un'operazione al seno per un tumore maligno l'italiana cantante e attrice sabrina salerno ha recentemente dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico dopo che l'estato diagnosticato un tumore maligno al seno l'artista ha comunicato questa notizia attraverso i suoi social media dove ha informato i suoi sostenitori di essere entrata in un processo di recupero positivo secondo le dichiarazioni della cantante il tumore è stato individuato precocemente il che ha facilitato gli interventi medici secondo quanto riporta salerno si è sentita male negli ultimi mesi e ha deciso di consultare un medico la diagnosi l'ha scioccata ma la sua determinazione a combattere la malattia è rimasta secondo le sue parole intatta ecco la traduzione in italiano ha dichiarato di aver ricevuto un forte supporto da parte di amici e familiari che le sono stati vicini in questo momento difficile anche le reazioni dei suoi fan sono state caratterizzate da compassione e messaggi di incoraggiamento l'operazione stessa è andata a buon fine e salerno ha già iniziato a riprendersi dall'intervento nei suoi posti attuali parla di un nuovo capitolo della sua vita e di una profonda gratitudine per ciò che ha während sie sich auf die genesung konzentriert plant sie dennoch wieder ins rampenlicht zurückzukehren sie habe den ehrgeiz bald neuen kreativen projekten nachzugehen sobald sie vollständig genesen ist des weiteren bezie salerno stellung zu den herausforderungen die mit solch einer diagnose einhergehen sie betont wie wichtig es ist regelmäßig vorsorgeuntersuchungen durchzuführen um potenzielle gesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen mentre si concentra sulla guarigione ha comunque in programma di tornare sotto i riflettori all'ambizione di intraprendere presto nuovi progetti creativi non appena sarà completamente ristabilita inoltre salerno prende posizione sulle sfide che accompagnano una tale diagnosi sottolinea quanto sia importante effettuare regolarmente controlli preventivi per identificare precocemente potenziali problemi di salute il suo appello alle donne è di non esitare a controllare il proprio corpo e di consultare immediatamente un medico in caso di anomalie per documentare la sua guarigione e informare gli altri salerno ha in programma di raccogliere le sue esperienze in un libro i suoi follower possono aspettarsi sguardi onesti e storie motivazionali che intendono trasmettere speranza e forza ecco la traduzione in italiano spera che la sua storia raggiunga e ispiri molte persone la notizia sulla sua malattia ha suscitato grande interesse nei media e la solidarietà del pubblico dimostra quanto sia forte il legame tra l'artista e i suoi fan salerno rimane ottimista e combattiva mentre ora si trova in una nuova fase della sua vita ponendo l'accento sia sulla sua salute che sui progetti futuri autrice anita fache giovedì 19 settembre 2024